Oggi farò il primo volo con il nuovissimo Evolight 640T Enterprise. Si tratta di un drone dotato di gimbal a doppia camera, una sul visibile e l'altra termica, con una sensibilità termica buona che è inferiore a 50 mK, che sarebbe la minima differenza di temperatura che riesce a percepire questa termocamera, da 640x512 pixel. Come vediamo ha la marcatura C1 del regolamento europeo droni, quindi è l'unico drone dotato di camera termica attualmente sul mercato con marcatura di classe C1, che presenta vantaggi normativi tra cui la possibilità di condurlo con le regole A1 con il semplice patentino A1-3. Questo drone è light anche nel prezzo perché costa circa 2000 euro in meno a parità di allestimento rispetto ad esempio al DJI Mavic 3 Thermal, che tra l'altro è un C2, il Mavic 3 Thermal. Stiamo vedendo i sensori a ultrasuoni invece che inferarossi, come solitamente vediamo negli altri droni, per il VPS due telecamerine sempre per il VPS e una luce ausiliaria. Naturalmente è dotato anche di due telecamerine anteriori e posteriori per il riconoscimento degli ostacoli. L'autonomia di volo dichiarata massima di 40 minuti, vedremo quella reale durante la mia prova. Viene fornito con lo Smart Controller SE V2, con la batteria che si può estrarre, ha un'autonomia di circa un'ora e mezza. Ed ecco un'ulteriore caratteristica molto interessante, la batteria del radiocomando è all'83%, ma possiamo anche sostituirla senza perdere collegamento con il drone perché grazie a una piccola batteria interna permette la sostituzione della batteria senza far perdere il collegamento, senza far spegnere il radiocomando. Quindi anche con il drone in volo possiamo sostituire la batteria del radiocomando quando si sta per scaricare. Purtroppo ha solo un tasto customizzabile che è quello che abbiamo visto con la lettera C, le due rotelline, gli stick removibili, le due antenne che per essere orientate correttamente devono vedere il drone dalla parte stretta e non dalla parte larga quindi possono essere orientate così verso l'alto oppure verso il basso, comunque sempre in direzione del drone con la parte stretta e non con la parte larga come invece ho fatto vedere in copertina per motivi scenografici. Le possibilità di configurazione sono tantissime come stiamo vedendo, approfondirò l'argomento in un altro video dedicato, questo è un video per il primo volo, per quanto riguarda la trasmissione ha anche la terza banda a 5,2 GHz quindi lavora su tre bande, io consiglio di lasciare in auto e se selezioniamo la modalità HD trasmette il video di ritorno a 1080p, mentre se invece lo lasciamo smooth trasmette a 720p. purtroppo non ha un'uscita HDMI, tuttavia è presente la funzionalità CAST che permette di trasmettere quello che viene visto sullo schermo su un altro dispositivo collegato di una rete Wi-Fi. Il radiocomando è compatibile MSDK quindi è possibile sviluppare delle applicazioni terze parti stranamente però è un radiocomando che per ora è basato su Android 6, devo però dire che questa è una versione di lancio del software sia per il drone sia per il radiocomando, vedremo se ci saranno aggiornamenti in futuro come mi auspico. Il display ha una luminosità massima di 800 nit e quindi sufficienti per la visibilità sotto i raggi diretti del sole, come sempre prima di decollare buona prassia attendere che abbia agganciato il numero dei satelliti sufficienti, controllare l'altezza del ritorno a casa automatico e che tutto sia configurato al meglio a seconda del volo che intendiamo fare. Come già ho spiegato non è il modo corretto di posizionare le antenne questo e stiamo anche ascoltando il bip dei sensori ostacoli. Abbiamo visto prima che ci sono tantissimi parametri che si possono configurare tra cui anche la disattivazione dell'allarme acustico, il bip per gli ostacoli. Possiamo cambiare anche le distanze di rilevamento e possiamo anche addirittura disattivare i sensori tenendo presente che comunque si disattivano quando attiviamo la modalità ad alta velocità ovvero l'Udgrus che è l'equivalente della modalità sport. Come abbiamo visto dall'etichetta il rumore delle eliche a parte l'avvertimento sonoro degli ostacoli, il rumore delle eliche è massimo 81 decibel come i droni c1 impongono. In questo momento suona perché rileva anche la bassa altezza quindi il terreno sottostante. Comunque il comportamento di volo è il tipico comportamento outer robotics leggermente diverso per chi è abituato ai droni dji ma comunque un ottimo comportamento di volo. Eventualmente si possono cambiare gli expo la risposta degli stick sempre da app. Comunque nonostante sia il primo volo per me in assoluto con questo drone mi sono abituato in pochi secondi alla risposta degli stick e quindi è arrivato il momento di provarlo in volo. In particolare voglio provare la camera termica e il riconoscimento dei target tramite intelligenza artificiale. Intanto vediamo che in basso a destra abbiamo la bussola informativa che ci indica l'altezza rispetto al punto di decollo ma anche l'altezza rispetto al livello del mare, il tempo di autonomia residua ad esempio 32 minuti 33 minuti e la percentuale della batteria velocità e distanza rispetto al punto di decollo. In basso a sinistra abbiamo la mappa che adesso è nera perché non ho caricato la mappa con attivazione del wifi hotspot non ho collegato il radiocomando a internet e vediamo però già che ho attivato il riconoscimento dei target e vediamo che in basso a sinistra mi indica anche le coordinate gps dei target vedete? Sia la finestra termica che quella sul visibile ma anche la mappa possono essere ampliate a schermo pieno come stiamo vedendo. Purtroppo non ho trovato ancora il modo per miminizzare il rettangolino della mappa in basso a sinistra che può dare fastidio però per ottenere una migliore visuale in real time possiamo eliminare tutta la telemetria facendo questo gesto verso l'alto con il dito e in questo modo è più chiara la visuale termica soprattutto nelle missioni di ricerca e soccorso non abbiamo distrazioni sul target da individuare. In questo momento ho attivato anche il rettangolo per le temperature comunque nella visuale doppia possiamo decidere se fare apparire a destra a sinistra l'immagine sul visibile piuttosto che la mappa o la camera termica ma torniamo al volo con il riconoscimento automatico dei target ecco che ha individuato a questa distanza un target ovvero l'auto nera che è in movimento siamo un po' lontani però riesce comunque a individuarli e se è mai vicino con lo zoom digitale che arriva fino a 16x ti riesce ad individuare abbastanza bene quindi questa è una novità assoluta per questa tipologia di droni per questa classe di droni e quindi può essere una cosa molto utile perché è attiva anche sulla camera termica e lo vedremo tra poco pertanto può aiutare l'operatore in real time che guarda lo schermo in real time a individuare gli obiettivi anche se magari non lo vede bene oppure distratto grazie a questa funzione riesce a essere aiutato diciamo così anche la camera termica dispone di uno zoom digitale fino a 16x ma naturalmente avendo una risoluzione a 640 che è ottima per una termocamera però lo zoom digitale quando lo spingiamo al massimo degrada naturalmente nell'ambito ricerca e soccorso quando le temperature circostanti sono simili a quelle del corpo umano quando indossa vestiti è difficile individuare il target però ci può venire in aiuto ad esempio la scelta della palette giusta qua ce ne sono parecchie questa ad esempio è la white hot che fa vedere i punti caldi in bianco bianco e nero per quanto riguarda la camera sul visibile può scattare foto fino a 48 megapixel può registrare anche in formato move mentre la camera termica in modalità manuale possiamo cambiare il contrasto e la luminosità ma interessante in modalità auto possiamo attivare la misura radiometrica e anche il miglioramento dell'immagine digitale io preferisco una via di mezzo ad esempio 5 perché a 10 è troppo e a 1 è troppo poco quindi 5 secondo me è un ottimo compromesso per vedere bene i vari target poi comunque ovviamente dipende anche dello scenario operativo e se siamo di giorno o di notte abbiamo le esoterme ad esempio valori preselezionati questo ricerca le figure umane fuoco oppure personalizzato custom che è la modalità che preferisco perché con il custom si può sintonizzare a piacere la temperatura massima e minima lo vedremo tra un attimo nel frattempo torniamo alle varie palette black hot prima abbiamo visto la white hot questa invece black hot significa che evidenzia i punti caldi in nero e varie iron rainbow lava tint medical insomma ogni palette ha le sue caratteristiche ed è indicata per il tipo di ricerca che intendiamo fare poi invece come dicevo la possibilità di sintonizzare le temperature vediamo massimo e minimo in questo caso 9 gradi vedete sto cambiando io con il dito mi sarebbe piaciuto un sistema un po' più agile perché non è agevole con il dito variare questi valori perché sono in piccolo avrei preferito un cursore uno slide più grande per questa impostazione però vediamo che possiamo agire anche sul più e sul meno in basso sia per l'alta temperatura sia per la bassa in questo modo sintonizzando la temperatura riusciamo a scremare un po' quello che andiamo a cercare sempre tenendo presente il contesto come ho detto prima qua siamo di giorno le varie temperature sono molto simili tra loro e quindi è difficile trovare un oggetto che ha una temperatura simile all'ambiente circostante però come stiamo vedendo può risultare efficace vedete che queste persone le ha individuate bene la camera termica anche con il riconoscimento automatico se andiamo sul visibile le vediamo lo stesso però meno vedete anche adesso sul termico si vede la persona sul visibile è quasi nascosta dalla vegetazione ovviamente poi quando entrano nella vegetazione non le vede nessun sistema perché la vegetazione copre insomma con un po' di esperienza e un po' di pratica con questa camera termica si riescono ad ottenere ottimi risultati al pari dei concorrenti sottolineo però la caratteristica unica del riconoscimento automatico dei target come stiamo vedendo in questo caso riconosce auto ma è possibile riconoscere anche persone come abbiamo visto prima e barche e si possono anche selezionare naturalmente registra le immagini visibili e termiche anche sul drone vedete qua c'è una persona che sta camminando a questa altezza e a questa distanza non è male avere questa capacità considerando anche come ho detto che l'ambiente circostanza è molto simile come temperature a quelle del corpo umano vestito vedete sta camminando e comunque si riesce a individuare come detto scatta foto jpeg radiometriche che è possibile analizzare con un tool che Autel metterà a disposizione ora l'ho analizzato con quello disponibile per evo 2 enterprise però c'è ancora qualcosa da sistemare come vedete le temperature non sono proprio quelle giuste probabilmente sono espresse in Fahrenheit invece che in gradi come viene indicato tra l'altro questo drone non ha la RTK però ha la possibilità di fare missioni anche fotogrammetriche anche white point vedremo nei prossimi video molto davvero molto completo e l'autonomia di volo vedete in basso a destra indicava 40 minuti adesso 39 l'autonomia di volo reale a me ha raggiunto tranquillamente 35 minuti prima di tornare a casa per batteria scarica il cui atterraggio automatico lo stiamo vedendo adesso vedete come scende abbastanza veloce per poi rallentare purtroppo durante il volo ho spostato il landing pad quindi non è significativo peccato però che outer non mette a disposizione un caricabatteria con ingresso usb di tipo c per essere alimentato anche da power bank così quando si è in giro non resta che utilizzare un converter come questo che alimenta a 220 volte l'alimentatore originale per il caricatore multiplo un ingresso a usb di tipo c per questo caricatore multiplo sarebbe veramente utile purtroppo non c'è quindi bisogna utilizzare il suo trasformatore a 220 che però vedete alimenta 55 60 watt quindi con power bank come questo che anche che anche un convertitore si può comunque caricare bene direi che questo primo volo mi ha soddisfatto per quanto riguarda la camera termica e anche per il riconoscimento intelligente secondo me è un ottimo punto di partenza abbiamo visto un po le caratteristiche qualche mancanza ma anche le cose positive soprattutto il prezzo e il fatto che è marcato c1 e comunque le performance della camera termica che forse sono quelle che interessano di più per la ricerca soccorso per ispezioni e via dicendo mi aspetto affinamenti con i prossimi firmware ma il punto di partenza secondo me è ottimo come detto e il prezzo è veramente top perché come ho detto all'inizio si risparmia 2000 euro rispetto al suo concorrente dji mavic 3t che tra l'altro è anche un c2 e questa potrebbe essere un'ottima alternativa molto dipende dagli usi che si tendono a fare comunque è anche completissimo come abbiamo visto nei prossimi video proverò altri aspetti di questo nuovo drone enterprise per il momento vi ringrazio per l'attenzione fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti iscrivetevi al canale se non avete ancora fatto e noi ci vediamo con il prossimo video su quadri 4 news buona continuazione a tutti